Costiera Amalfitana, Sicilia e Sardegna. Sono questi i posti più frequentati dai VIP, anche questa estate, e rigorosamente in bar. Tanti volti noti dello spettacolo, ma anche dello sport, shake e magnati, bec. Incontrarli non è così difficile e su TikTok sono diversi video che ci ormai famoso il launchpad di Mark Zuckerberg avvistato tra Palermo e le Olie, ma anche nel golfo di Napoli a largo di Capri, lungo 118 metri, blu, con 13 cabi ormai famoso il launchpad di Mark Zuckerberg avvistato tra Palermo e le Olie, ma anche nel più o meno dello stesso livello il blu, dello Sheikh Mansour Bin Zayed, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e proprietario del Manchester City, incrociato da un altro utente a più o meno dello stesso livello il blu, dello Sheikh Mansour Bin Zayed, vicepresidente. Non poteva mancare il campo da basket sullo yacht di Michael G. La star NBA è in vacanza a Positano con la sua barca a tre piani e dall'ultimo parte uno scivolo di gomma per tuffi indimi. Jeff Bezos, invece, ha optato per un mega veliero, ripreso dal barchino dei gelà. Jeff Bezos, invece, ha optato per un mega veliero, ripreso dal barchino dei gelà. Il più semplice di tutti Claudio Baglioni, beccato a Lampedusa a bordo di una barca decisamente più modesta, alcuni fan lo riconoscono mentre è a pranzo sulla pedana di poppa con un gruppo di